Come donna e come insegnante di arte e immagine, soprattutto come artista, mi sono sentita davvero quasi in dovere di offrire il mio lavoro in qualche modo a questo progetto che trovo davvero fondamentale e importantissimo per la società, per gli esseri umani in generale, davvero. Quindi grazie di questa opportunità. Il titolo VIV, oltre all'etimologia del termine VIV o VIVA, naturalmente, è dotato di vita, è un po' l'abbreviazione anche del mio cognome, quindi lo uso generalmente per firmare tutti i lavori che faccio ed è anche un po' un'esclamazione quando facciamo VIVA, un po' come un tifo per la vita. E quindi è un ino alla vita, ecco, questa è una mia dedica proprio per la vita, che deve prevalere su tutto. È un'immagine che vuole rappresentare prosperità della natura e prosperità spirituale in senso completo. L'albero che nasce dal cuore rievoca numerosi significati positivi, la vita, l'amore, la sorellanza, infatti nel tronco emergono dei volti femminili appunto. In questo caso proprio è una testimonianza personale, nel senso che ho proprio inserito anche le mie figlie, io sono mamma di due bimbe e quindi sento davvero nel cuore questa esigenza di voler appoggiare tutti questi progetti. Grazie a tutti.